Quello che abbiamo vissuto è soprattutto una grande problematica nelle città d'arte, dove l'assenza del turista straniero, in modo particolare del turista d'oltreoceano, ha colpito fortemente città come Roma, come Firenze e come Venezia. Moltissimi albergatori, moltissime strutture ricettive, anche extraalberghiere, mancando questa clientela e questa fascia della clientela fondamentale, non hanno aperto. Abbiamo vissuto una stagione mai vista, quindi è stata una stagione estremamente corta, nella quale gli italiani sono rimasti al 97% in Italia. Abbiamo vissuto un'assenza pressoché totale di turisti stranieri. Quello che abbiamo vissuto è soprattutto una grande problematica nelle città d'arte, dove l'assenza del turista straniero, in modo particolare del turista d'oltreoceano, ha colpito fortemente città come Roma, come Firenze e come Venezia. Moltissimi albergatori, moltissime strutture ricettive, anche extraalberghiere, mancando questa clientela e questa fascia della clientela fondamentale, non hanno aperto. Per cui non si può che sperare della riapertura dei confini, augurandoci il più fretta possibile, perché altrimenti le città d'arte, soprattutto gli operatori delle città d'arte, si troveranno a non sapere come superare questo lungo periodo di chiusura e che ovviamente per qualsiasi operatore economico non può durare in eterno. Fortunatamente invece mare e montagna sono riusciti a far compensare, anche se in parte, quella che è stata la chiusura totale di qualsiasi attività turistica nei mesi del lockdown e fino, ripeto, a 20 giugno. Noi abbiamo vissuto un primo periodo nel quale siamo stati considerati quasi gli untori, perché all'inizio di febbraio, all'inizio di marzo, a fine febbraio, sui giornali si diceva che la Cina e l'Italia erano i due paesi che stavano diffondendo il contagio. Questo sicuramente ormai si è dimenticato. Quindi quello che adesso occorre fare è soltanto continuare a raccontare quello che è il nostro paese, quella che è la ricchezza delle attrattività turistiche del nostro paese e quello che abbiamo visto anche da un'analisi, da uno studio che abbiamo fatto nelle ultime settimane, ad ogni modo l'Italia continua ad essere nell'immaginario collettivo comunque la destinazione numero uno. Quindi grazie a Dio si è dimenticata un attimino quella che era questa immagine negativa dell'inizio pandemia. Quello che abbiamo visto è che comunque attraverso le misure del Ministero della Sanità ma anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli operatori del settore si sono dati immediatamente da fare per poter permettere di garantire quei livelli di sicurezza necessari per poter passare una vacanza tranquilla. Da 4.000 turisti che abbiamo intervistato nelle ultime settimane, l'85% si è ritenuto soddisfatto del livello di sicurezza che gli veniva garantito dagli operatori, quindi non soltanto dalla ricettività e all'80% soddisfatti da quelle misure del territorio nel quale si sono trovati in vacanza. Per cui questo è un aspetto estremamente positivo perché sicuramente anche in futuro, mentre fino ad ora una delle variabili fondamentali nella scelta della vacanza era il prezzo, adesso il discorso della sicurezza diventa primario. Le misure che sono state adottate, quindi i vari decreti che sono stati emanati, hanno permesso di passare questa fase di emergenza dando gli strumenti e soprattutto i mezzi finanziari per questo periodo comunque lungo di chiusura o di chiusura parziale. Quello che è importante adesso è guardare alla ripresa, di conseguenza io credo che l'effetto della pandemia ha comunque influenzato anche quella che era l'immagine del turismo per l'Italia dal punto di vista del peso economico e di cosa rappresenta, per cui all'interno di quelli che sono i fondi del recovery fund sono certo che misure che saranno definite dal Ministero dei Beni Culturali ma anche dal Ministero del Sviluppo Economico e dell'Economia terranno conto del peso che il turismo rappresenta nell'economia italiana, che stiamo parlando a livello complessivo intorno al 13%. Di conseguenza noi ci auguriamo che una fetta consistente o comunque proporzionale dei fondi che sono stati messi a disposizione nell'Unione Europea possano permettere di guardare quindi alla ripresa. Venire in Italia significa anche conoscere il nostro way of life, il nostro modo di vivere e di conseguenza bisogna fare molta attenzione affinché i centri storici continuino ad essere non Disneyland, cioè continuino ad essere borghi, città con la vita quotidiana che è anche quello che il turista sta cercando. Per cui bisogna trovare quel giusto equilibrio sapendo che anche in altri paesi la problematica della ricettività extralberghiera è stata comunque affrontata e risolta in maniera tale che ci possa essere la pacifica convivenza delle diverse tipologie di ricettività ma, ripeto, salvaguardando le motivazioni per le quali il turista sceglie di venire in Italia piuttosto che andare in un altro paese. Grazie a tutti.